2-0 la Virtus Espugno 83-74, palla Pentasuglia e torna a Bologna con il risultato migliore possibile. Una gara che ancora una volta ha messo alle corde Brindisi di fatto impossibilizzata alle sue abituali transizioni, guidata da una Segafredo ancora una volta con 16 punti di Todosic, 16 di Bellinelli, i top scorer bianconeri ma un apporto importantissimo anche di Ricci oltre che sull'arco anche all'interno dell'area colorata. Per Brindisi non sono bastati 15 punti di Perkins e i 16 di D'Angelo Harrison sparito nella seconda parte di gara e il 9 su 28 oltre i 6 e 75 ha certificato la difficoltà dell'Epicasa nel colpire da lontano. Ora per da Segafredo due possibilità di match point negli incontri casalinghi il primo martedì.